Ciao ragazzi, sono in compagnia di Alessandro Tonelli, che è il consulente tecnico di Eleva Yachting. Ti chiedo subito di parlarvi un goccino di Eleva. Allora, Eleva è una struttura relativamente nuova, perché questa barca è stata lanciata l'anno scorso al Salone di Cannes ed è l'opera prima del cantiere, però è legata a una struttura molto più grande che si chiama Carbon Line, che è un'elite in Italia nella produzione del materiale in composito, soprattutto nell'infusione. Seguendo questo processo i proprietari del cantiere hanno voluto evolvere la loro produzione sulla sezione vela e questa è stata la prima barca di un progetto completamente italiano dal designer alla costruzione per arrivare a avere questo open water cruiser dedicato a un armatore che vuole una barca con dei livelli di customizzazione apprezzabili, veloce, però pur sempre una barca da crociera. Quindi il vostro target è abbastanza ampio? Sì, è ampio, sicuramente l'armatore ideale per una barca del genere è un armatore a cui piace navigare e non navigare, scusate il termine, su un pezzo di plastica. Assolutamente, non ti devi scusare per nulla al mondo. Qualche peculiarità di questa barca, che cosa ci potresti dire? Allora, la barca, come prima cosa, abbiamo già detto prima, è una barca, è un prodotto totalmente made in Italy. Dal designer alla costruzione che viene effettuata a Fano, sotto la manovalanza esperta di lavoratori specializzati nel composito. Tanto che questa barca è una barca infusa in tre stadi, in infusione di resine epossilica e carbonio, quindi sicuramente mirando alla qualità costruttiva. Altro indice, sicuramente riconoscibile, che poi è il marchio dell'azienda, è il wave, cioè la linea distintiva della barca, che ha la prua che sale, permettendo di avere una barca con un bordo libero, basso, in tutta la sua interezza, tranne nella parte della sezione di prua, che sale facendo elevare la shear line della barca, garantendo degli ampi spazi a prua che su una barca normale, anche di 50 piedi, normalmente non sono fruibili. Questo dà la possibilità, oltretutto, a un armatore di poter scegliere diversi layout dell'imbarcazione, e si torna in quel discorso di customizzazione che facevamo precedentemente, con tanti altri piccoli particolari, a partire dal garage tender, alla cala vele di prua, al tender personalizzato in carbonio per la barca, che completa un progetto dedicato a una navigazione particolare. Una barca costruita un po' sull'armatore? Una barca costruita per come vuole l'armatore, più che sull'armatore, nel senso che, anche se la parte idrodinamica non vengono toccate, e poi certe cose, dei layout interni, le finiture, il tech, non il tech, anche il livello stesso di costruzione, avendo la possibilità di avere questa barca da una laminazione, chiamiamola standard, una laminazione full carbon, questo dà la possibilità all'armatore di scegliere qual è il livello dell'oggetto che vuole avere sottipiedi mentre naviga. So che l'Eva Yachting ha dei progetti in cantiere, per quali eventi? Allora, in questo momento abbiamo un po' di carne al fuoco e al salone di Cannes presenteremo qualcosa di nuovo, ancora ben da definire, però con lo spirito sempre leva, uno spirito giovane, legato a una barca sicuramente che si distinguerà dalle altre, anche in un modello di differente dimensione. Meraviglioso! Allora, aspettando queste nuove cose che usciranno, intanto venite a vedere Eleva Yachting, ne vale davvero la pena. Caro, ti ridò la linea, a dopo. Ciao!